è stata dura perché non ero preparata per me come per lei queste immagini sono un pezzo di vita e adesso che succede cerca di capire sono 40 anni io faccio domande un bavagli o il più forte di me l'intervista di maurizio costanzo giovedì in seconda serata canale 5